In barba e divieti hanno consumato cibi e bevande fuori parcheggio di un supermercato. Per entrambi è scattata la sanzione amministrativa. È stata una giornata particolare l'altro giorno per due soggetti originari di Sulmona di 43-46 anni che avevano pensato bene, considerata la chiusura dei bar alle ore 18 in relazione alla normativa sul contagio Covid-19, di acquistare snack e birra e di fare una bevuta tra amici nel parcheggio di un ipermercato della cittadina Peligna. Purtroppo per i due proprio da quelle parti transitava un poliziotto del commissariato di pubblica sicurezza di Sulmona che al termine del servizio aveva deciso di fare spesa per la propria famiglia. Al cospetto dell'operatore della polizia di Stato si è prospettata una scena piuttosto inusuale. I due, privi di mascherina, con tanto di boccali di vetro, sorseggiavano birra, sgranocchiavano patatine appoggiati al cofano motore di un'auto. Ancora più curiosa è stata la reazione dei due, che si sono giustificati dicendo che era l'unico modo per fare due chiacchiere in compagnia in quanto i bar avevano chiuso alle 18. Al poliziotto del commissariato non è rimasto che contattare i propri colleghi della volante e sanzionare amministrativamente i due soggetti in relazione alla normativa in materia di Covid-19 dovranno pagare una sanzione amministrativa di 400 euro ciascuno. È bene ricordarlo ai sensi del recente DPCM del 3 novembre 2020, dopo le ore 18, è vierato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.